la mobilità del futuro è solo un fatto di energie rinnovabili di carburanti alternativi e di tecnologie oppure c'è anche tanto da fare da innovare su altri fronti ne parliamo con giacomo lo vati il mondo della mobilità è un mondo molto variegato ovviamente in questo momento sotto i riflettori perché tutto il tema appunto della transizione ecologica quindi della del del trasporto elettrico ha dato un boost importante comunque un percorso che era che era già in alto quindi io penso che il punto della sostenibilità quindi dell'elettrico sia fondamentale per dare una spinta a qualche cosa che però era già in movimento mobilità mobilità significa seguire il ciclo di vita delle esigenze dei clienti che si spostano da un punto a a un punto b con una motivazione sembra banale da dire però questo è estremamente importante perché perché conoscere quali che sono i comportamenti di chi si sposta e perché si sposta sono fondamentali anche per costruire un'offerta che sia adeguata quindi un gruppo assicurativo può sicuramente come noi stiamo dimostrando di essere un attore fondamentale perché effettivamente noi abbiamo quasi 10 milioni di clienti auto che da anni sono nostri clienti e che noi in qualche modo da anni capiamo in termini di comportamento capiamo intendo noi siamo stati precursori sul mondo delle scatole nere magari dopo vedremo con maggior dettaglio però l'informazione di come si muove un cliente è fondamentale e noi ne abbiamo in abbondanza sostanzialmente ovviamente parlare di mobilità significa poter offrire più servizi quindi mobilità di base vuol dire non essere verticali ma essere aggregatori di una serie di servizi e ovviamente la digitalizzazione la tecnologia diventano fondamentali perché mobilità vuol dire avere una piattaforma se non riesci a costruire una piattaforma digitale che possa proporre questi servizi al tuo cliente rimani su fettine verticali di offerte quindi non stai oggettivamente indirizzando il problema della mobilità come in realtà di questo